Pneumatici Valtellina Sullo stato di salute dell'area ex Falca, legambiente vuole vi delci chiaro. È dello scorso venerdì la presentazione di un'istanza presso la procura della Repubblica di Sondrio, con la quale la situazione manifesta la propria intenzione a presentarsi parte civile nel processo che si aprirà in seguito all'esito delle indagini avviate dalla magistratura e dai carabinieri forestali di Sondrio. Nel mese di aprile erano stati posti sigilli sulla zona, all'interno della quale sono posizionati i vaschi e pozzi di ispezione necessarie per il monitoraggio dell'inquinamento del sottosuolo e delle acque che fluiscono al lago. Qualsiasi progetto di riqualifica dell'ex Falca deve fare i conti con un'effettiva bonifica, ha precisato Costanza Panella, responsabile legambiente del circolo altolario, che non significa semplicemente nascondere le sostanze inquinanti ricoprendole d'asfalto, come è stato fatto finora. L'obiettivo dichiarato dall'Associazione Ambientalista è quello di riportare in auge una zona che ad oggi è sempre rimasta confinata e pericolosa. Per questa ragione è necessaria una vera opera di bonifica, partendo dalla conoscenza dei dati relativi all'inquinamento ambientale. Vogliamo garantire la sicurezza dei cittadini che abitano nelle vicinanze e al tempo stesso mantenere l'integrità naturale della vicina riserva del Pian di Spagna, ha continuato la rappresentante del regambiente. Per questo chiediamo i dati relativi alla contaminazione, per conoscere i rischi a cui sono sottoposti ecosistema e persone. Troppi, è detta di Costanza Panella, i silenzi e le sottovalutazioni che si sono susseguiti nel corso degli anni e che hanno portato all'attuale situazione di degrado dell'aria, in cui ancora oggi emergono tracce di cromo isavalente, sostanza altamente tossica per l'uomo. Rimaniamo in attesa delle indagini condotte dalla Procura per procedere con eventuali valutazioni. ha concluso la Panella e continueremo a sostenere la popolazione di Novate Mezzola, riunitasi anche nel Comitato Salute e Ambiente ai Lago e Vali, che da tempo combatte la causa.